Il compito che ci siamo dati, che mi sono dato oggi, concerne prima una definizione, una piccola introduzione storica a proposito dell'ecoidrologia e poi parlerò con la scusa di parlare delle cose che so, cioè delle reti fluviali, viste come corridoi ecologici, e alcune note su ecoidrologia e sostenibilità. Dunque, ecoidrologia è una disciplina di formale costituzione piuttosto recente che studia i controlli dell'acqua sulle comunità vive. Cioè riguarda lo stabilirsi e l'abbondanza nello spazio e nel tempo, quindi la distribuzione di specie e di popolazioni. Popolazioni quindi è una connotazione che direttamente si lega nel caso in cui sia l'acqua il fattore di controllo, la forzante e il controllo, quella dell'acqua, rispetto al ciclo idrologico. Quindi è un'accezione vasta, il modo migliore per affossare un progetto culturale è quello di allargarlo troppo, ma l'idea è quello che, in qualche modo, mi sembra opportuno tracciare le origini che ben compendiano, secondo me, l'intera definizione del convegno di oggi. Cioè la vera nascita di una disciplina nasce intorno a dei lavori particolarmente importanti. Questo lavoro condotto da Ignacio Rodriguez, che come diceva Giovanni prima, è in realtà appunto il papa della disciplina, l'ha di fatto inventata. Esistevano naturalmente gli ecologi, contestano correttamente, che per loro l'equidrologia, cioè gli studi delle comunità vive con l'acqua, sono all'origine delle scienze ecologiche. Però la formulazione compiuta di progetti, di strumenti che vengono da due discipline diverse è quello che ha generato la nascita. E quindi che è sostanzialmente lo studio del contenuto della dinamica del suolo, il suolo in questo caso inteso come un particolare volume di controllo, cioè un sistema, un'unità di area, quindi una funzione di punto, forzato da un sistema erratico come la pioggia giornaliera, in una dimensione caratteristica della profondità, che è la dimensione dell'apparato radicale di coltiva, di coltura e di vegetazione, soggetta quindi ai mutevoli umori del clima. Lo studio esatto, ecco, quindi un problema approssimato, che produce risultati esatti, ha prodotto uno schema probabilistico delle distribuzioni di probabilità del contenuto d'acqua del suolo in questa particolare regione, che è la zona dell'apparato radicale, la quale è fondamentale perché non dimentichiamo che metà della popolazione mondiale sussiste, cioè produce cibo per effetto di un'agricoltura che è dominata dal clima. Come diceva Giorgio Parisi in introduzione, quindi dalle possibilità che desertificazioni riducano drasticamente la possibilità di produrre cibo per corti di popolazioni umane sparse per il mondo. Perché questo studio è importante? Perché caratterizzando in maniera probabilistica con l'esperienza di almeno 60 anni di storia idrologica, cioè modellate come processi marcati di Poisson, e un bilancio di massa ben fatto, consente di scrivere e dissolvere in maniera esatta queste distribuzioni. E questo è stato un cambio copernicano all'inizio dello stabilirsi nella buona società scientifica di questa disciplina, che oggi conta, io ho contato almeno una quindicina di laboratori o di cattedra che sono dite l'idrologia. E come vedete qui il gruppo è particolarmente interessante, ci sono due ricercatori italiani, uno in fuga è Milker Portorato, che però lascia tracce in questo, che è a Princeton adesso, Luca Ridulfi a Torino, e soprattutto c'è il grande contributo di statistici di primo livello, come Valery Isham e Sir David Cox, che è probabilmente il più famoso statistico al mondo. Parlerò poco o nulla, lasciando naturalmente, pensando alle relazioni di Roberto Bassi, di Paolo Perona più tardi, eccetera, un ruolo diretto nell'ecologia delle piante, nella fisiologia delle piante, su questi. Il segnalo soltanto però che molto lavoro teorico, molta evidenza empirica, è stata raccolta in anni recenti, qui c'è il segnalo James Kirchner a Zurigo, ma anche due bravi ricercatori italiani, Gianluca Botter e Paolo Benettini, che si sono occupati della caratterizzazione dell'età dell'acqua, cioè la capacità di datare isotopicamente l'acqua nella precipitazione e nell'acqua raccolta, vedete in questo caso, l'acqua raccolta dai fiumi, che è l'essenza della teoria e della risposta idrologica e l'essenza del modo in cui la trasformazione di piogge portate caratterizza una branca che è stata tradizionalmente fondamentale dell'igiene. Ebbene, quello che è apparso chiaro in tempi recenti è proprio legato al fatto che l'acqua che esce soggetta ad una forzante di precipitazione anche intensa da un bacino, non è in realtà quasi mai, per una parte importante, acqua nuova, cioè l'acqua della precipitazione, ma acqua che era stata nel bacino, che aveva vissuto all'interno di questo bacino idrografico, cioè del volume di controllo, per molto tempo. Questo è chiamato il paradosso dell'acqua vecchia, cioè questa relazione causale che mio padre, che era un vecchio ingegnero della bonifica, l'unica cosa certa è che c'è una correlazione diretta tra piogge portate, in realtà, per effetto del progresso tecnologico, è diventata una questione di una certa importanza. Perché è rilevante l'ecoidrologia? Di per sé saremo il dominio dell'edrologia superficiale che ha suoi strumenti e suoi riti particolari. Però la realtà è che, vedete, una vasta e diversa assemblaggio di vegetazione ha la proprietà di campionare dal pool dell'età dell'acqua in storage nel bacino determinate età. Ci sia una certa affinità o meno della vegetazione per l'acqua vecchia, l'acqua nuova, rimane da discutersi. Ma certamente non siamo capaci oggi di capire quali sono le astrazioni, quindi l'effetto ecologico vero della fisiologia della pianta, che impediscono a un pool di tempi di residenza all'interno del bacino di diventare tempi di viaggio, cioè tempi in cui l'acqua espulsa dal bacino diventa portata. Questo è un tema che lascio volentieri ai nostri colleghi. Perché mi sembrava interessante in qualche modo provare a fare una connessione invece con le note per una fra l'icoidrologia e sostenibilità? Perché a mio giudizio l'ecoidrologia ha una rilevanza fondamentale nel tracciare una valutazione quantitativa dei servizi degli ecosistemi che riguardano l'acqua, in particolare l'acqua dei fiori. Quello che vedete nella fotografia è una zona di mangrovie in Thailandia che viene drenata e quindi viene completamente demolita per lasciar spazio per esempio, questo era il caso di specie che si faceva sempre, ad un insediamento, ad un parcheggio, ad un centro commerciale e quant'altro. Questo è l'esempio che Barbier portava su Nature qualche anno fa. Allora, quello che è chiaro è che mentre il prodotto interno lordo dell'area, della zona, del paese che ricomprende lo sviluppo economico è visibile perfettamente nei tempi più rapidi, le perdite invece di capitale naturale, capitale naturale è importante da definirsi, capitale naturale che stiamo dilapidando a ritmi preoccupanti in molte parti del mondo, è il patrimonio complessivo di beni naturali, cioè l'aria, l'acqua, il solo, le risorse, le comunità vive per sé e che contribuisce in modo essenziale a fornire beni e servizi di valore diretto o di valore indiretto o dire anche con un godimento come servizi culturali e include tutti gli ecosistemi che sono controllati all'acqua, non certamente tutti ma che certamente forniscono a welfare globale servizi di grande importanza. Quindi questo che vedete è parte da Skupta ed è l'economista di Cambridge che ha scritto recentemente quella valutazione economica della biodiversità che è un lavoro colossale che richiede molta digestione ma che è fondamentale perché osserva che il pensiero economico e il pensiero ambientale in qualche maniera sono l'un contro l'altro armati e l'impressione che si aveva in passato la cosetta maledizione delle curve di Kuznets l'economista di Harvard espatriato dall'Europa nazista che sosteneva che l'aumento di indicatori di carattere economico avrebbe postulato naturalmente un incremento e una diminuzione delle disuguaglianze e un incremento del welfare generale. Questo è un concetto che è entrato recentemente in crisi e una delle ragioni per cui questo è entrato in crisi è che non siamo capaci di dare un prezzo a molti veni immateriali il godimento la bellezza per esempio o anche a valori che sono veri e propri che sono quelli che concernano il valore dei servizi che l'ecosistema ci dà gratis in qualche modo e si temeva che appunto per il fatto che sia l'incapacità nostra di dare un prezzo a questi valori sia fondamentale perché allora l'ecoidrologia può dare un contributo perché le reti idrauliche Aula la radice latina di Aula vuol dire fluido confinato quindi le reti sono sistemi in cui la geometria del sistema la più bellezza questa vedete sono forme a marea non è una vera rete fluviale è una rete a marea ma risponde bene in cui coesistono come vedete tracce di ambiente naturale a cui sono legate quelle forme meandriformi a cui si riferiva Giovanni prima ma mostra anche tracce come vedete dell'opera dell'uomo dell'ambiente costruito quelle specie di rettangoli sono vele di sistemi di pesca più o meno tradizionale e ci si chiede perché le reti idrauliche siano importanti nella determinazione del capitale naturale e l'esempio che faccio è un esempio è questo perché questa fotografia l'ho fatta io l'ho fatta sulle sulle sponde del Megna del una fluente del grande sistema del Taiko del Gange Brahmaputa dove abbiamo fatto per anni lavoro di campo per studiare l'ecologia del patogeno del colera cioè di malattia waterborne perché questo ragazzino voleva mostrarmi che le sacre acque del Megna questo l'ho raccontato in alcune occasioni perdono chi l'ha già sentita questa cosa ma per me è rivelatrice e voleva dimostrarmi che le sacre acque del Megna non possono essere la causa come ai tempi di John Snow e del colera quando si pensava che la malattia fosse waterborne ma la causa diciamo dell'infezione che in quelle zone è croniche perché evolutivamente il patogeno del colera è nato in quelle zone ora visto che questo ragazzo beveva quest'acqua circa 200 metri a valle del più grande ospedale dedicato alla malattia di Arroy che al mondo che è a Matlab Bangladesh istituto in cui in quel momento erano presenti due o trecento persone correntemente infette da colera e il fatto che io non sia capace di predire se questo ragazzo prenderà o no il colera per aver bevuto quell'acqua perché la determinazione puntuale della concentrazione dei patogeni che è quella che determina con la dose la vera infettabilità della persona è fratta da così tante incertezze connesse alla condizione iniziale nella concentrazione del patogeno alla propagazione attraverso il sistema del Megna per quei due o trecento anni tutte le incertezze che rendono questo problema debole e questa debolezza è sempre stata una grande liability cioè una grande colpa degli scienziati io voglio fare adesso un esempio particolarmente inquietante che ha a che fare con una malattia cronica non letale la scistosomiasi o la bilersosi che è una malattia in cui sostanzialmente un patogeno risiede nell'apparato urinario nell'intestino di una persona viene escreta in forme di larve diciamo questi scistosomuli all'interno e nelle urine nelle feci diventa un patogeno che si chiama l'ematobium che può infettare un ospite intermedio che è una chiocciola d'acqua dolce del genere bulinus che a sua volta si è infettata e deve farlo rapidamente nel giro di poco emette delle larve che si chiamano cercalie che entrano nella pelle nella pelle umana anche solo al contatto quindi il contatto con l'acqua che le determina perché questo è rilevante il tema del convegno perché è evidente che questa meta-analisi di un gruppo dello Swiss Tropical Institute utilizzato da Marcel Tanner che è una figura di grande riferimento segnala che esiste una correlazione diretta e certa fra lo sviluppo di risorse idriche e e e e la l'espansione della la grande espansione della della prevalenza della malattia perché questo è importante perché questo che vedete è una delle 15.000 piccole dighe che il Bangladesh su finanziamento della della banca mondiale ha ha creato in una zona in cui con un regime idrologico eh semiarido stagionale che è tipico dell'Africa subsahariana che ha consentito la costruzione di grandi ed estese reti di irrigazione che hanno grandemente eh grandemente eh e ha avuto impatto su miglioramenti agricoli eh di questo paese quindi il PIL della il prodotto interno lordo del Burkina Faso ha visto grandemente eh eh aumentata il suo benessere sulla carta ma non vede il costo che è connesso con la grande espansione della malattia questa è una malattia che è eh poverty reinforcing perché colpisce soprattutto le eh popolazioni eh rurali e è una malattia che eh può essere curata relativamente facilmente ma che con medicina che non danno immunità acquisita e vedete queste avvengono semplicemente questa fotografia l'ho fatta io in Burkina Faso e questi che vedete sono dei ragazzini che nel momento in cui nel momento in cui la pioggia stagionale si genera si tuffano nell'acqua eccetera quindi necessariamente sono sono infettati quindi la nostra capacità di poter predire in qualche modo la distribuzione dell'incidenza della malattia ci può dare un primo eh argomento per cercare di bilanciare veri costi e veri benefici degli interventi inclusi quelli quindi rapidamente per spiegare perché insomma questa matrice ambientale che riguarda le reti idrauliche una delle possibili declinazioni ma certamente quella che in qualche maniera riesce a dare delle valutazioni stringenti e cogenti sono sistemi in cui con dei nodi e con delle connessioni connessioni tracciate da quel percorso morfologico di cui parlava Giovanni Seminara nell'origine consentono di studiare con diversi strumenti come organismi come le popolazioni come le metapopolazioni cioè le popolazioni di popolazioni che si che si possono considerare astratte in qualche modo dall'interazione ecologica o i modelli di metacomunità con gerarchie di modelli si possono considerare di trattare questi particolari substrati come si chiamano per le interazioni ecologiche cioè questi particolari ambienti come vedete in questo caso e in questo modo come vedete condensando il lavoro dei tre grandi di grandi maestri del pensiero contemporaneo uno è Ignacio Rodriguez come vedete uno è Ilka Hansky l'ecologo grande ecologo morto giovane disgraziatamente che introdusse il concetto della di una sintesi fulminante della viabilità di un substrato ecologico di una matrice ambientale per popolazioni e Marino Gatto del Politecnico di Milano che è un grande ecologo teorico quindi l'esercizio e rapidamente ho un aggeggio che suonerà quando al venticinquesimo minuto quindi solo quando mi devo fermare noi possiamo prendere allora sistemi in cui la matrice ambientale è dominata da sistemi che possiamo osservare in remoto e manipolare oggettivamente come le grandi reti fluviali questa Mississippi Missouri è un grandissimo sistema per mille ragioni fisiche e economiche e sociali che conosciamo e possiamo valutare in remoto e questo è un lavoro che un po' ha dato la stura allo studio di specie di sistemi di questo tipo quello che vedete è abbastanza interessante questo LSR vuol dire Local Species Richness se si parla di pesci in questo caso se Enrico ci ascolta sarà contento questa è la la ricchezza di specie che sono osservate e sono tabulate questo è stato un biologo Rod Fagan che l'ha reso pubblico e il colore codifica la diversità di specie in diverse posizioni all'interno dell'area defluviale questa che vedete questa AARP vuol dire Annual Average Renoff Production cioè l'idrologia vuol dire la produzione di deflusso annuale che si verifica in questa area defluviale e certamente non occorre un fine statistico per osservare che esiste per forza una correlazione fra il regime idrologico e la diversità di specie quello che forse non era possibile immaginare è che attraverso contributi che sono anatema in certi circoli ecologici ma che io trovo di straordinaria potenza e e e e l'utilità per interpretare patterns piuttosto che processi o la loro connessione come diceva Simon Levine nella sua MacArthur lecture che ha citato Giovanni in introduzione ed è la teoria neutrale della biodiversità della biogeografia di Stephen Hubble cioè quella che dice che sostanzialmente fa una proposta oltreggiosa beh vediamo cosa succede se tutte le specie hanno rate ecologiche per unità di organismo e quello che è interessante è che strumenti di questo genere però fortissimamente condizionati e e dalla dalla natura del substrato per le interazioni ecologiche cioè la rete idrografica le dimensioni della rete che sono gerarchiche con schemi che sono predicibili questa morfologia e geomorfologia che noi abbiamo imparato a studiare empiricamente e sempre di più teoricamente negli ultimi cent'anni consente di fare delle mappe in cui per esempio in un sistema che connetta la distanza dall'uscita rispetto a questa alfa diversity che è la diversità di specie ha una capacità predittiva di una robustezza che è straordinaria e allo stesso tempo questo lavoro di cui non parlerà oggi Enrico Bertuzzo perché parlerà di altre cose ma se noi guardiamo un paesaggio fluviale per esempio ci si chiede qual è la relazione fra un classico problema dell'ideologia dell'ecologia cioè quella la relazione che esiste fra la ricchezza di specie e la altezza l'altezza fisica che va riducendosi che è un massimo diciamo ad una ad una elevazione mediana in qualche modo e che è fondamentale per fisiologi delle piante tanto quanto biologi di campo ebbene è impossibile che un substrato di questo tipo non possa tenere in conto alcune caratteristiche che sono naturalmente riproducibili naturalmente invarianti di scala che sono scritte nella forma del paesaggio fluviale per esempio la sua autoaffinità cioè il fatto che ad una determinata altezza non si possa avere picchi o cavi nello stesso modo per la natura del paesaggio che è un problema che è completamente scisso dalla natura del problema ecologico ed è un problema fondamentalmente geomorfologico e idrologico possiamo anche fare delle misure in laboratorio per esempio dello studio di come le popolazioni possano invadere dei contesti fluviali e in questo caso è abbastanza interessante osservare che vedete questi che sembrano questi si fanno in laboratorio queste sono tracce che abbiamo preso nel mio laboratorio per esempio delle stracce che possono lasciare dei protisti in un sistema in cui si fa biforcare arbitrariamente un sistema sembra un quadro di pollo che invece sono delle bestie che si muovono in un contesto idrologico controllato e ci consentono di capire perché per esempio questa che vedete è un altro caso paradigmatico è l'invasione del sistema del Mississippi Missouri da parte di una cozza la zebra mussel questo è una forma questo è un mollusco che si riproduce grandissimo vantaggio selettivo introdotto per sbaglio nelle acque del lago Michigan per effetto di una di acqua di sentina abbandonata da un cargo ucraino perché la malattia era nativa in Europa che si è propagata all'interno del sistema Mississippi Missouri causando una serie di problemi importanti che oggi si riescono a capire e a predisporre con altre e interessanti variazioni sul tema perché per esempio se vi guardate lo sviluppo dei dati lo sviluppo poi simulato in qualche modo dei sistemi di questo tipo quello che succede è che da una parte c'è una certa diffusione di questo ciclo del mollusco che riguarda una parte sessile una parte che viene trasportata a questi belligers che sono delle spore che vengono trasportate dalle acque come dei soluti passivi ma che a certo punto appaiono in posti incongrui completamente diversi questo questo perché se l'acqua del mississippi è usata a scopo ricreazionale certe barche che vengono messe in acqua in un punto vengono alzate non vengono pulite bene trasportate per via di autostrade e vengono pulite altrove generando un meccanismo che non dissimile da quello dei fuochi nelle foreste che hanno delle riaccensioni e infine l'ultimo argomento riguarda le malattie cioè il fatto che uno possa studiare in maniera spazialmente esplicita con questi strumenti la demografia dei contagi questo è importante perché perché le comunità in odio a questo punto sono comunità umane città villaggi di qualunque natura in cui la malattia può evolversi e può svilupparsi e questo ci consente di usare strumenti per definire per definire la caratterizzazione di queste reti che sono caratteristici degli strumenti di logica alle mappe digitali del terreno alle mappe estratte in maniera oggettiva dei percorsi fluviali alle mappe ai sistemi informativi geografici quindi la distribuzione dei villaggi delle popolazioni o le mappe di mobilità umana su cui vi intratterrò rapidamente perché mappare la mobilità umana significa mappare i percorsi della malattia e questo fa parte di un lavoro di campo che abbiamo fatto che ho fatto ad Haiti durante la grande epidemia di colera che è cominciata nel 2011 e finita solo da un paio d'anni e l'impressione è che appunto una cosa è vedere studiare dei numeri una cosa è vedere in azione la malattia o vedere come la mobilità umana in effetti possa essere il motore vero del contatto da persona a persona che può essere valutato con gli strumenti che sono gli stessi strumenti che ci consentono di studiare specie su un paesaggio montano per esempio sono sistemi matematici ben conosciuti e su questo tracciamento della mobilità umana che è l'ultimo tema che tratto quest'oggi questa è una fotografia che ho già mostrato e chiedo perdono a chi l'abbia già vista ma mi ha molto colpito questo era il mercato di Carrefour nella 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 subborghe di Porto a France in ad Haiti durante il picco dell'epidemia di colera e nel momento in cui un paese devastato il più paese più povero al mondo devastato un terremoto che ha ucciso 300.000 persone che ha distrutto quel minimo di infrastrutture che ancora esisteva di fogliature strade polizia non c'è niente al punto che non si può aprire il finestrino della macchina blindata che ti porta in giro per colpo di questo per merito di queste organizzazioni umanitarie perché ti possono uccidere per rubarti la macchina fotografica bene questa signora col vestito rosso in un secondo ha tirato fuori un telefono ecco sono i 15 minuti che avevo promesso e finisco in tempi ragionevoli e ha mostrato a questa signora che vedete qui un telefono avendone un cavolo in ritorno cioè una prova di pagamento fatta con il con il con il sistema allora perché è importante questo perché la proprietà di un telefono cellulare per esempio come vedete non è distintiva socialmente non è è in realtà e ci si può anche chiedere per quale ragione Nokia 1900 abbia avuto la possibilità di propagarsi in un paese più povero del mondo e non una fognatura a un sistema di questo consentendoci di tracciare la malattia ci consente di usare quelle quei marchi ingegni che usano gli ingegneri e i fisici statisti per prevedere come dati e modelli si sviluppino insieme e se mi consentite l'ultimo excursus ci consentono anche di trasformare rapidamente come quegli industriali del Comasco che hanno trasformato laboratori d'alta moda nella fabbrica di mascherine ci consentono di studiare anche altri modelli altri dati in questo caso quello che vedete sono i dati a livello comunale o a livello provinciale del Covid-19 in Italia gli strumenti sono esattamente gli stessi e questo è radicato nella natura e nell'esempio degli strumenti che riguardano il nostro sistema quindi le mie conclusioni sono abbastanza facili e sono legati al fatto che la riflessione del sottotitolo ci invita a sfide della modernità che sono opposte alle scienze dell'acqua ci chiediamo se potranno le risorse idriche globali soddisfare i crescenti bisogni di cibo di energia dell'umanità oppure potranno i grandi piani di gestione delle acque delle risorse idriche includere il controllo e la riduzione della perdita di biodiversità per esempio o capaci di pervenire come le reti possono essere delle immagini delle epidemie e quindi il tema generale è che è verso una giusta distribuzione dell'acqua che dobbiamo tendere cioè dalla valutazione quantitativa dei servizi degli ecosistemi è una strada di democrazia e libertà per il ripensamento dell'uguaglianza sociale vi ringrazio di domenica di domenica di domenica di domenica Grazie.